Dopo le operazioni di ripascimento operate sul lungomare San Marco, l'amministrazione Coppola ha deciso di procedere con il medesimo intervento anche per la spiaggia della Baia di Trentova, questo al fine di porre rimedio alla forte azione erosiva che negli anni ha portato a ridurre notevolmente in ampiezza la spiaggia più rinomata ed apprezzata della città di Agropoli. Si procederà sfruttando l'offerta migliorativa presentata dalla città che già ha operato sul lungomare. Qualche giorno fa, afferma il sindaco Adamo Coppola, abbiamo ottenuto il nulla osta da parte del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per poter procedere al ripascimento della spiaggia di Trentova. Avevamo già preventivamente effettuato idonee attività di caratterizzazione, andiamo ad agire prelevando la sabbia nello spazio aqueo antistante e la renile per riportarla tramite una pompa idrovora dove era. Un intervento che contiamo di ripetere ogni anno in modo da mantenere costante la linea di battigia ed ottemperare così all'azione erosiva del mare. Solo ora ci è pervenuto l'ok del parco, conclude. Chiediamo un po' di pazienza e sacrificio a tutti, i lavori dureranno pochi giorni ma alla fine ne sarà bassa la pena. L'obiettivo è quello di ripristinare la renile livellando nelle zone sommerse dove i sedimenti si sono accumulati per poi spargerli e ridistribuirli nella zona adiacente. La linea di battigia riportandola in avanzamento secondo la configurazione naturale. L'intervento assume praticamente il carattere di un'attività manutentiva compatibile all'habitat naturale ciclica della renile.